Ciao a tutti ragazzi, io sono Coridan, ancora una volta ben ritrovati nel mio canale. Oggi, come vedete, torno a fare anche un po' di video recensioni, o per meglio dire cosa ne penso, di videogiochi, perché, come detto, non tratto più videogiochi sul canale, ma a livello di gameplay, serie e cose del genere. Però, recensioni di videogiochi e soprattutto quelli che mi interessano di più e che trovo più belli, li porto volentieri sul canale. E oggi vi voglio presentare Enlisted, il primo sparatutto con truppe in soggettiva della Gaijin, che ringrazio di cuore per avermi offerto questa chiave per fare le recensioni. Quindi, grazie di cuore, collaboro con la Gaijin di War Thunder da anni, quindi li ringrazio veramente tantissimo, e ve ne parlo a breve, dopo la sigla. Enlisted, titolo della Gaijin, come ho detto, è il primo sparatutto in soggettiva che va ad utilizzare il motore, lo stesso motore di War Thunder. Quindi, è quel gioco che, secondo me, mancava un po' nel mezzo, perché, avete visto, War Thunder è partito come gioco di sconti di aerei. Poi c'è stato successivamente la parte di War Thunder, bellissima, con i carri armati e molto simulativa, e ora stanno iniziando, stanno iniziando già da un po' di tempo, a mettere le navi per arrivare fino alle corazzate, navi da guerra e tutto il resto. E ci mancava un po' di fanteria, perché effettivamente gli hanno sempre detto, fatevi uno sparatutto vostro, perché ce ne avete le capacità e la possibilità. E ora hanno fatto lo sparatutto, che al momento è un gioco singolo a parte, a pagamento, vi lascio il link in descrizione, potete ordinare direttamente uno dei due pacchetti, che è uno con le truppe alleate, che al momento, ma solo al momento, sono soltanto i russi, un po' più avanti metteranno tutto il resto, il Commonwealth, gli americani e il resto, e anche dalla parte dell'asse ci sono soliti i russi, e poi invece metteranno anche gli italiani e i giapponesi. Però, al momento, il gioco è in Closet Beta. Sarà un gioco gratis per Xbox nuova e per Serie X, se non erro, e per PC gratis e gratuito, però se ci volete giocare ora, fino a che non uscirà in Closet Beta, costa 30€. Quindi, secondo me, ne vale la pena, anche perché vi danno monete e contenuto aggiuntivo, non è che uno paga per fare la beta, c'è anche del contenuto che poi ti tieni una volta che il gioco sarà uscito. Ed è un gioco di sparatutto, ovviamente, a squadra, che ha, secondo me, una componente molto interessante, anzi, più di una, poi vi faccio vedere un po' di gioco, però la parte più interessante, vi assicuro, non è il gameplay, ma tutto il metagame che ci sta intorno, perché voi non gestite un personaggio, voi non avete il vostro personaggio, Battlefield, COD, tutto quello che volete. Voi, abbassa un attimino il volume qui, nel frattempo che parlo, voi gestite direttamente una squadra, ed è una cosa divertente, che non ho mai visto in uno sparatutto. Ci sono a volte gli RTS, misti a gioco, sparatutto e cose del genere, questo invece è uno sparatutto, senza nessuna tattica, RTS, gioco visto dall'alto, inquadrature strane, però voi gestite una squadra, non gestite uno mino. Infatti, se vi faccio vedere, queste sono le mie diverse squadre, che io sto levelando, che sono una squadra di assalto, che sono questi qua, che hanno tutti il CAR 98 come fucile, poi ho una seconda squadra di assalto, dove tutti sono col Gewehr, però uno di loro ha, gli ho comprato un MP28, una squadra di carristi, usate il Panzer II schifoso, senza manco il cannone, però il gioco è in Closet Beta, metteranno il Tiger, metteranno l'Elcat, il Patton, lo Stug, li metteranno tutti, al momento ci sono questi qua, e poi la squadra di ricognitori, tutti col Gewehr, e uno al CAR 98, K, ovviamente con lo scope sopra, con il mirino telescopico. E la cosa bella di questo gioco è che voi non gestite un omino, gestite una squadra. Tutti questi omini sono nella vostra squadra, e potete andarli impersonali tutti, switchando col tasto Y, Silon, mentre siete in azione, che questa forse è una cosa che mi è piaciuta un po' meno, eh, metto le mani avanti perché a volte non sai mai il giocatore quale va in personale e quale è il bot, magari un secondo prima era un bot, poi si gira, ti spara in testa e poi passa un altro. Questa cosa andrebbe un po' limitata. Comunque, voi avete tutta quanta questa squadra, e vedete dove c'è una stellina, vuol dire che passano di livello, perché poi la cosa bella è che i vostri soldati passano di livello, e quando passano di livello, voi andate a cliccarci sopra e gli potete anche dare l'equipaggiamento. Equipaggiamento che ovviamente dovete avere, dovete aver sbloccato, perché le armi si sbloccano vincendo partite. E passando di livello gli date perk, quindi diventano proprio più bravi anche i bot stessi, con l'abilità che le andate a mettere. Se no, andando su upgrade, vedete c'è il ramo, io ad esempio vi prendo i cecchini, la squadra, potete dare punti esperienza, quindi potete far progredire la squadra, potete far progredire il workshop, però dovete arrivare al livello 3, che ancora non ce l'ho, dalla modalità campagna, o il personal upgrade, come vedete qui. Quindi la squadra, gli potete dare degli upgrade a livello di quello che sanno fare, o se no a livello anche di equipaggiamento e quello che possono portare dietro. Poi, andando su logistic, quando si vinca le battaglie, ma anche perdendo tranquillamente, fate meno punti e sbloccate punti, fate la weapon delivery, che cliccandoci vi dà degli oggetti, vedete delle armi casuali, quindi non sapete cosa esce, armi che andate a equipaggiare alla vostra squadra sotto soldier, come vi ho fatto vedere, oppure truppe nuove. Perché anche andando su soldier, potete fare managing soldier, e avrete una lista qua giù, che l'ho già tutti quanti equipaggiato e messo in una squadra, avrete una lista di soldati, ognuno differente, ad esempio, perché poi ognuno di loro ha delle abilità e dei perk particolari, potete andarla a prendere direttamente e lo buttate nella squadra, o se no aumentate la squadra, magari invece di essere in 4 diventano essere in 5, in 6, cose del genere. Quando la squadra è wipeout, ve la fanno fuori tutta, voi nella battaglia dovete scegliere un'altra squadra, quindi comunque è molto interessante, non ci sono tanti comandi, l'intelligenza artificiale fa un po' schifo, però fanno mucchio, fanno massa, perché se no sarebbe un gioco dove mappe da 32 giocatori sono troppo grandi, non ci servono mai. Invece dà proprio il senso della battaglia e del fronte che ci sono tanti soldati che girano. Voi avete il tasto X che gli date l'ordine per buttarle in battaglia, quindi che ne so, andate lì, presidiate questa zona, sono un po' scemi eh, a livello dell'intelligenza artificiale, ti si mettono avanti mentre spari, andate a presidiare quella zona, ma mettiti in copertura, invece magari si mettono per strada e si fanno ammazzare. Ragazzi, è una cosa in beta, quindi dovrà essere ampliato. Comunque, dopo questa abbastanza corposa premessa, ma era normale e doveroso farla, perché un gioco non è Battlefield, è prettamente differente da qualsiasi altro gioco, vi faccio vedere un po' come funziona e avvio una partita. Quando avviate la partita, potete scegliere se fare truppe dell'asse o alleati, anche perché i punti esperienza che prendete rimangono legati alla fazione, non è che sono generali e li sbloccate, se fate passare il cecchino dell'asse, il cecchino degli alleati non vi passa di livello. Quindi io gioco per ora, sto portando avanti sempre l'asse. Facciamo partire, vi faccio vedere un po'. Inizia la partita, bisogna conquistare i classici obiettivi un po', lo vedete, classica barra, l'HUD è proprio sparato, veramente quello della Gaijin di War Thunder, e dovete scegliere una squadra. Come vedete, questo sono io e questi qua sono gli NPC che mi seguono. E per me... un po' di casino. Ok, tutti insieme. E premendo il tasto Y, come vi dicevo, posso switchare da un personaggio all'altro. Tutto lì. Andiamo. Andiamo a morire subito. Andiamo a morire subito. Andiamo a morire subito. Andiamo a morire subito. We hold all the control points. Keep it up. Sango! Andiamo a morire subito. Andiamo a morire subito. Andiamo a morire subito. Andiamo a morire subito. No 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 Si fa la carica a banzai Con il cortello A mod di giapponese Dentro nell'edificio e li sbuzzo tutti Vittoria Finisce la partita Finisce il match Ci vengono assegnati tutti quanti i punti esperienza Che come vedete ne fai anche abbastanza E' un po' come tutti i giochi della Gaijin Io anche su War Thunder Tsuko sempre ne tocco un casino Però fondamentalmente anche avendo fatto uno schifo di kill Perché guardate prima non ha fatto 38 Cioè sull'ultimo della lista Però i miei punti me li sono fatto tranquillamente E anzi ho sbloccato un Un weapon delivery Che come vedete mi da la possibilità Cliccando qui Di prendere un'arma Questa qui dovrebbe essere Ah potresti prendere diverse armi Oppure Si dovresti prendere diverse armi fra queste Oppure fra questo equipaggiamento qua Io voglio provare a cliccare qui Vediamo Ah perfetto Mi ha dato un altro MP28 E poi qui ci sono i perk I perk sono quelli che vi dicevo prima Quando passa di livello Vi date Li date l'abilità nuova Lui ad esempio ha questa cosa Che lo rende più veloce a correre Quest'altro ha tipo Ce n'era qualcuno Che ci aveva anche Ah questo qui Ha tipo uno spazio in più Nell'inventario Quindi comunque vabbè Dovete sempre vedere anche un po' L'equipaggiamento Che è una cosa molto importante Ora lui passando di livello Scegliete un nuovo perk Il gioco ve ne da tre casuali E questo li fa Vabbè lo fa saltare più in alto Questo li da più stamina E questo la rigenerazione alla stamina Che preferisco Quindi passato di livello Nuovo Nuovo perk La mitragliatrice Il gioco mi fa vedere che Il fucile d'assalto Non lo posso dare a chi voglio Ma lo posso dare ai carristi O a pochi altri Perché ad esempio a lui no Se vado un attimino Su arma secondaria Uguale no Sono soltanto fucilieri Lo poteva avere soltanto Il capo squadra Allora Andando nei carristi Il primo già ce l'ha Un MP28 Vediamo se me lo fa Se me lo fa dare al secondo Faccio select E glielo ho dato Quindi I carristi Sono armati da paura Cioè hanno anche la mauser I fucilieri Sono armati a schifo Non ho fatto in tempo A farvi vedere il car armato Anche perché la battaglia È durata poco Ma Sono i carri di War Thunder Messi in questo gioco Praticamente Che La meccanica È la stessa Ah Ci sono anche gli aeroplani Che ora vi vado a far vedere Intanto qui passo di livello Anche qui dovete mettere i punti Ad esempio questo Ah si Aumenta il numero massimo Di assaltatori Che potete mettere In questa squadra Io ce ne metto un altro Così Mettendogli un altro assaltatore Poi potrò dare anche Il Il mitra Insomma Che ho sbloccato prima Direttamente a lui Mentre invece di qua C'ho un altro punto Che quasi quasi Gli alzo un po' I punti di esperienza Che prendono Quando andiamo su Campaign Ci fa vedere Nella campagna Corrente Sbloccando L'esperienza globale Generale Qua su in cima Cosa andremo a sbloccare Ad esempio A livello 3 Sblocco loro Poi andando a livello 4 Sblocco direttamente Il primo pilota Perché si può anche attaccare Ci sono tutti i veicoli Di War Thunder A parte ovviamente Le navi Quelle non ci sono ancora Io sogno di vedere Un giorno un gioco Del genere Con tutto E poi vabbè Nuove carri Nuove truppe E quant'altro Quello che Allora il gioco è bello Merita Ve lo consiglio Compratelo Già in close ed beta È un'alternativa Da paura Battlefield Qui si muore con un colpo Qui spari Becchi Uno muore Cioè non c'è tanti discorsi L'unica cosa Che ci sono rimasto Un po' male Però ancora in close ed beta Che loro avevano promesso Io ci avevo fatto Una bocca larga così Avevano promesso Che il gioco sarebbe stato In prima In terza persona Sarebbe stato meglio Sparare in prima Perché tipo arma In terza Se è spreciso Però almeno Se mi voglio muovere in terza Mi muovo in terza E io non so giocare In prima persona Invece l'hanno tolta Completamente sta cosa Speriamo che più avanti La rinseriranno Comunque vabbè Io ringrazio di cuore Gaijin Per avermi offerto La possibilità di provare Questo gioco Ragazzi L'avete visto dal video E è veramente Veramente veloce Se cercate un'alternativa A Battlefield Ma qualcosa Ripetamente differente Questo gioco è perfetto Vi lascio il link In descrizione Ciao ragazzi Alla prossima